Un arcidemone si è impossessato del corpo di un ragazzo innocente di 11 anni. Chi è lei? Aiuterò suo figlio. Io entro nella mente della vittima per curare la malattia. Siamo nella tua testa. Svegliati, bello. Quest'entità è forte. La più forte che abbia mai incontrato. Incarnate. A febraio al cinema. A me. A me. A me. A me. Grazie a tutti.